La crisi in Venezuela, ma anche i tanti fronti di guerra che ha descritto in prima persona da inviata freelance. Argomenti raccontati questa mattina agli studenti del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo dalla giornalista Barbara Schiavulli, ospite dell'iniziativa organizzata dal Circolo Culturale Shaicana di Roseto e dall'associazione Ali Onlus. La verità, perché si deve conoscere la verità sul Venezuela, perché tante volte le notizie che arrivano non sono vere. E allora approfitto l'occasione per dirle ai giornalisti italiani, in particolar modo, di documentarsi bene quando dicono una notizia. Non solo gli italiani, anche gli giornalisti dell'estero. Nel liceo classico di Teramo oggi è ospite Barbara Schiavulli, che è una giornalista che si è occupata anche di Venezuela, oltre che di tanti altri paesi caldi del mondo. La sua testimonianza è quanto può essere importante per gli studenti? È molto importante, già perché è una giornalista giovane, è una delle poche giornaliste di guerra adesso in Italia, perché porta la informazione diretta. Lei ha vissuto un buon esempio per i ragazzi. Di cosa ha bisogno il Venezuela oggi, con urgenza, la popolazione venezuelana in particolare? Sì, innanzitutto della libertà, però a livello materiale, principalmente i medicinali. I medicinali sono fondamentali, soprattutto per i bambini. Infatti, ALI, ONLUS come associazione, in questo momento abbiamo fatto la campagna quaresimale per la raccolta del latte liofilizzato e dei medicinali, ma soprattutto del latte liofilizzato. Già sono quattro anni che raccogliamo medicinali, prestiti sanitari e attraverso ALI l'Italia in questo momento è il paese di Europa che manda più aiuti umanitari in Venezuela. L'incontro, moderato da Pina Manente, è stato occasione per Barbara Schiavulli di raccontare in retroscena del difficile mestiere dell'inviato di guerra. Negli ultimi vent'anni Barbara ha seguito tutti i fronti caldi, come Iraq e Afghanistan, Israele, Palestina, Pakistan, Yemen e Sudan. I suoi reportage sono apparsi sulle maggiori testate italiane ed estere. Ecco fondatrice e condirettrice di Radio Bullets. Ha vinto numerosi premi, anche grazie ai suoi libri. Il giornalista, prima di tutto, deve essere indipendente, ha detto la reportera agli studenti, e non sposare alcuna posizione preconcetta. Io vado dove ci sono persone che hanno bisogno di raccontare la loro verità.